Zeman, questo è certo, rientrerà a Pescara venerdì 14 luglio, domenica 16, comincerà in sede la preparazione precampionato e caccia alla vice plizzari che dovrebbe restare dell'Icari Stringe per il 27enne Samuele Massolo. Scuola Sampdoria in uscita dal Palermo con il Rosanero ha vinto il campionato di C stagione 2021-22 soffiando nella fase decisiva il posto al titolare Pelagotti, Massolo è stato protagonista con set clean sheet lo scorso anno, zero presenza nella torneo cadetto, il suo contratto scade il 30 giugno 2024. In precedenza stagione 2018-19 Massolo aveva contribuito alla promozione in B dell'Entella di Boscaglia, delfino ai dettagli per il terzino Roberto Pierno, classe 2001 di proprietà del Lecce. Accordo totale con l'entourage del calciatore, l'ex Virtus Fraccavilla firmerà un triennale, c'è solo da stabilire la percentuale da riconoscere a Lecce sulla rivendita futura del calciatore, dunque operazione a titolo definitivo. Sebastiani sul ritorno di Merola, sono ottimista, il ragazzo vuole tornare a Pescara, la prossima settimana incontreremo Lempoli per definire il tutto. Russini tentato da un'offerta allettante del Catania per il centrocampo Collo del Resta, un candidato forte ma bisognerà aspettare il 20 luglio e dunque le vicende legate al Siena. Tutto fatto invece per Squizzato, Tunjov e Masala, mancano solo i rispettivi annunci. Come anticipato ufficiale, il ritorno di Andrea Gessa allenerà l'Under 17, formazione primavera affidata invece a Marco Stella. Pineto particolarmente attivo, il neo DS Marcello Di Giuseppe ha già portato a termine diverse operazioni, il portiere Etonti ex Teramo, l'esperto Stefano Amadio in mediana. Tra l'altro un ritorno in difesa imminente, l'arrivo di Ingrosso dal Pescara Club dal quale il Pineto ha prelevato Germinario e Lombardi. È fatta per il ventenne Nicolò Evangelisti in prestito dall'Empoli. Lo scorso anno al Taranto 34 presenze in Serie C, figlio del DS Luca che da calciatore ha militato per due stagioni nel Giulianova in Serie C. Davanti i colpi Gambale ex Avellino e Montevarchi e il trentenne fantasista Mancino Emilio Volpicelli ex Viterbese e Matelica.